Avete un megafono con cui parlare? No Ah boh, abbiamo finito Eh saliamo in macchina e scappiamo Vai Esci 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 Cina esci Vai Chi è che ha sparato? La polizia Stai il radio 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 Raga senza sparare Vedetevi Stai il radio 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 Vabbè questo è un bug raga è un bug è un bug però vabbè dai è un bug raga c'hai capito capito raga guardate ah sta sta usando il almeno riesce a muoversi vedo che riesce anche a sparare sta facendo questo capito raga sta vedendo in terza persona riesce anche a sparare abuso di terza persona però lo stanno facendo anche i miei quindi zero problemi lo stanno facendo tutte e due fa suono fuori e che ci vuole ma c'è quello che lo scu... madonna mi ma chi ti prende no 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 puttana dai non devi ammazzare tutti dai andate avanti dai tutti avanti dai chi è con me chi è con me esci fuori codardo questo è quello che sai fare ammazzare dei poliziotti che vogliono far rispettare la legge pezzo di merda quella tua moglie ti ha fatto le corna lo so io pulcino grazie mille esci fuori e ringraziamo Checco per la clip non parli nemmeno perché sei un codardo sei un senza palle per me possiamo rimanere anche così e fare un picnic esci fuori ferme bisogna fare due tre assalti alla centrale allora Ciro prima o poi lo faremo lo faremo però lo faremo per delle cose cioè in rp cioè delle cose serie le faremo vi assicuro che le faremo però mi serve la meloni mi serve ah se ne sta scappando bravo bravo scappa 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 mi è andato addosso nooo come cazzo l'ha visto come cazzo l'ha visto ah l'ha visto dai vetri forse scappa scappa scappa